Tiziano era passato ad ascoltare un po' le canzoni del mio disco e gli era piaciuta particolarmente questa Time Out, la title track e disse voglio fare questa cosa, io non c'ero quel pomeriggio e fece dei cori, tipo tantissime linee di cori, tante armonie che secondo me sono straordinarie, sono una delle cose più belle di quel disco e di questo lo ringrazio ancora e lo ringrazierò per sempre Io e Tiziano ci siamo conosciuti in un'occasione abbastanza particolare eravamo in una trasmissione domenica in, un pomeriggio ricordo che c'era anche un Inter Roma o Roma Inter perché era anche presente Antonello Venditti che stava seguendo la partita con particolare accoramento nella sala di regia dove hanno tutti i monitor e Tiziano era appena uscito, credo con Perdono con il primo singolo e non era ancora conosciutissimo, erano i primi passaggi televisivi io mi avvicinai a lui perché avevo sentito questa canzone in radio mi era piaciuta da impazzire, gli ho detto guarda Tiziano sei veramente fortissimo per il fatto che per la prima volta sento un'ondata di modernità pop nella musica italiana credo che in qualche modo sia io che Tiziano siamo entrambi tra virgolettissime figli di Lorenzo tra virgolette molto grandi, se no giustamente Lorenzo potrebbe dire va bene tutto però insomma ce l'hanno più di te, comunque nel mio caso ecco nel senso che entrambi forse abbiamo vissuto da fan l'epoca totale ed assoluta di Lorenzo perché io ho cominciato a cantare, cantare insomma a fare del mio meglio per assomigliare a un cantante in seguito a un'illuminazione, cioè Lorenzo fu il primo quando ancora lavorava in radio quando era DJ conosciuto nella scena romana, il veleno, queste cose qua a portare in Italia a un grosso pubblico quello che era secondo me quella che era la più grande rivoluzione musicale degli anni 80 della seconda metà degli anni 80, cioè l'hip hop, il rap lui ha fatto conoscere a un grande pubblico il rap, quindi la musica nera che veniva fatta dai non musicisti c'era una canzone dei Public Enemy che diceva questa frase Run DMC first said a DJ could be a band i Run DMC per primi hanno detto che un DJ può essere una band cioè un giradischi, un campionatore, degli strumenti non tradizionali possono permettere di fare musica se solo hai qualcosa da dire e hai voglia di farlo io di fronte a questa illuminazione ho cominciato a fare musica rock non è sinonimo di buono a confronto di tutto il resto che è negativo io sono convinto che ci sia una grande dignità anche nel pop non vedo questa dicotomia tra rock e pop per cui il rock è comunque la musica dei grandi valori della rivoluzione dei cambiamenti sociali ed epocali e il pop invece solo un prodotto ben confezionato fatto per vendere nelle classifiche io rispetto il pop e sono convinto che dove c'è un pop di qualità poi anche tutti gli altri generi diventano forti e credo che questo accomuni particolarmente me e Tiziano Ferro sia io che Tiziano abbiamo vissuto quella che era la più grande rivoluzione musicale degli anni 80 della seconda metà degli anni 80 cioè l'hip hop, il rap io sono forse il lato tra virgolette più rock mentre Tiziano è partito dalla parte più forse nera, più rap, più funky quindi entrambi in qualche modo siamo figli di questa cosa e entrambi siamo fan credo che questo accomuni particolarmente me e Tiziano Ferro sono convinto che dove c'è un pop di qualità poi anche tutti gli altri generi diventano forti si minchiate così, se una cosa è utile io non la so come sta il tuo sorriso spegne come sta il tuo sorriso spegne grazie a tutti